Vedi, ma da quanto tempo è che non giocavamo a GTA V? Tantissimo! Dopo Roblox abbiamo riportato anche GTA Esatto, un altro grande ritorno del canale Esatto, però abbiamo voluto fare le cose in grande Quindi quest'oggi facciamo un qualcosa che su GTA non abbiamo mai fatto in vita nostra No, non è il labirinto, quello l'abbiamo già fatto tante volte Quest'oggi giocheremo con alcuni consolini dentro GTA In una delle modalità che avevamo appunto fatto Quindi come funziona? Io avrò 5 minuti per uccidere tutti i consolini che sono nascosti dentro il labirinto Mentre loro dovranno soltanto scappare e nascondersi da me Il via è questo flare Io sono già nascosta Steph, quindi vai anche loro Allora, avvio il timer Perfetto Quanti consolini abbiamo nascosti? 5, giusto? Compresa te Contando me 5, sì Quindi ho 5 persone, 1 al minuto la mia media deve essere Non sarà semplice In ogni caso, consolini, fateci sapere se volete vedere appunto GTA spesso Loro si possono nascondere anche qua, quindi devo controllare Lasciate tanti likes e fateci sapere che video vorreste vedere appunto fatti in questo modo così E se vi piace il fatto di essere appunto in compagnia Comunque volevo dire che non sarà semplice Perché un conto è quando eri abituato a vedere solo me, a cercare solo me Lo so Ora 5 che ti scappano Steph Non è semplice Soprattutto perché è passato 40 secondi e non è che non ho visto nessuno Ah guarda, io mi sono nascosta dopo tutti gli altri e non ne ho visto manco uno in giro Quindi evidentemente sono nascosti molto bene Ma come fanno a nascondersi molto bene? Non lo so Cioè ok che guardano un sacco di video di nascondino eh Però Non lo so, non lo so Raga dai, non mi potete lasciare a 0 kill, vi prego Scompetta che la prima che troverai sono io Il secondo round è quello di ferie Quindi comunque è una gara a chi fa più kill tramite L'ho deciso adesso così a caso Lo sapevo, lo sapevo perché sei un maledetto senti sempre l'odore di ferie Va, Steph, Steph non puoi? Dovevi lasciarmi scappare un po' Non mi puoi uccidere subito Sei terribile Fosse stato un altro match e l'avrei anche fatto Guarda che clicco inizia un duello qua e non la finiamo più, guarda Ma stai zitta, ma che vuoi? Bene, sono a una kill in un minuto e venti, ok? Io guarda, l'ho detto due secondi Prima che mi trovassi Ho detto adesso vedrai che trovi me Ma dove stanno? Dove stanno? Ma sono sicura che stanno nel labirinto Aspetta, io voglio salire qui in alto Vediamo se vedo qualcosa No, non vedo niente Controlla la mappa e dimmi se almeno sono nel labirinto Giusto? Toglimi un dubbio Secondo me sono stato Li ho trovati, sono nei cespugli Forbi, hanno fatto bene Allora, due kill, un minuto e cinquanta Non stanno andando male Ne ho colpito anche un altro una volta Quindi l'ho abbassato di vita Ok Però è scappato Ok Ok Ah, quindi stanno molto nei cespugli Erano due, uno vicino all'altro nei cespugli Eh, però è una bella idea In effetti io non ci ho pensato Perché i cespugli non è che li guardi bene Controli prima il labirinto Uh, io ho visto anche altre persone Ok Che mi sono messa in alto Però raga, per ora sono in linea Due kill e due minuti Quindi ho altri cinquanta secondi per fare la terza kill E sto andando alla fine discretamente bene Discretamente Potrei fare un figurone Soprattutto grazie a Fede che scatta subito A me mi ha messo un sacco di ansia Io odio cercare Poi sono bravi loro a nascondersi Quindi mi ricorderò che guardi C'è spugli prima di tutto Guarda Vieni qua Vieni qua Ho trovato un altro Lo devo placare No dai, quello era il colpo finale E lo so, però è scappato Primo o poi sbagli in strada Primo Uh, l'hai trovato un altro T'ha dato un calcio però, eh Vabbè, era distinto Ovviamente Si sarà spaventato Vicolo cieco Oh yes, tre kill Due minuti a 48 Non devo perdere questo Non devo perderlo Dove, 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 dove Sinistra? Forse non è andato a destra No, l'ho perso Ci sta Sono a tre di cinque Sì Ok Stanno andando Che succede? No Quello è un piccolo, cieco, giusto? No Porca miseria Ok Non ti fidare Destra, destra Destra Lo sto vedendo parecchio Sinistra per forza di cose Sinistra adesso non so dove è andato L'ho visto per un attimo Ok Ok Sono a quattro kill Tre minuti e trenta Giusto? Te ne manca uno quindi, sì Controllami se è dentro Nel labirinto Nel senso se ce n'è solo uno dentro Per capire se hai ragione No, sì, Stef Ho contatto bene? L'ho visto in giro Non c'è bisogno che controlli Ok, ok Perfetto Questo è quello che mi interessava sapere Quindi comunque c'è Controllo un po' di cespugli Uff Quindi io Siamo in quattro e manca uno Un minuto e venti per uno Ed è ben nascosto Io l'ho visto passare una volta Quindi manco io so dove è Sto odiando questo labirinto Te lo giuro Perché lo sto letteralmente odiando Dove cavolo è? Cinque minuti È andato Devo sparare il flare Che avisa Che non ce l'ho fatta Uff Scenografico Vedo il flare Con le tue lacrime Che sento Quattro kill di cinque Non ce l'ho fatta Torniamo fuori E tocca a fare Ah Che ansia Io non ne voglio fare ste roba Perché non abbiamo fatto cercare uno di loro? Eh Perché non lo so Ok Perché sei cattivo con me Tala doi la risposta Beh era carina La sfida con i consolini No certo Però è difficile Cioè cinque sono tanti Cinque sono tanti Allora Ok Non trovo l'uscita Ok eccomi Anche l'altro Non so se hai capito che è finito Perché ecco è arrivato È arrivato Ok Uno due tre quattro cinque sei Ci siamo tutti all'appello? Siamo tutti Ok Allora comunque volevo anche salutare Nat Che era con noi Che ha organizzato tutto E praticamente È arrivato un temporale Lì si è spento il pc E quindi non c'è Sì esatto Un round l'avrebbe dovuto fare lui A cercare Però purtroppo gli è spento il pc Gli è andata male Però dai sarà per i prossimi video Allora E tieniti l'arma a milì E direi che possiamo andare Ok Sono pronta Steph Sparo? Vai 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 Fatto Ok Allora mi devo mettere l'arma a milì Che se non sbaglio Voglio Io sono con un sacco di consolini nascosto Ma noi siete tutti assieme? Siamo tipo in quattro Quindi appena tu arrivi Noi partiamo tipo a pesce Che iniziamo a correre a tutte le parti A spirale di consolini Esatto Bellissimo Ok Sai che mi sa che ci siamo tutti e cinque? Ma dai Te lo giuro Allora mi sono dimenticato il timer Vai vai Vabbè dai non era nulla Secondi te li sconto Via 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 Era tipo dieci Steph Te ne ho dato venti Qua c'è uno Di già? Raga scappate Raga Ma Che è successo? Ma tipo ha laggato Ed è sparito Davvero? Gli ho dato due colpi Pensavo fosse fermo Invece poi è sparito Non ho la più pallina E dove si è finito Perché l'ho visto totalmente Teletrasportare Ma torna lì Io forse l'avevo visto eh Non so che dirti Cioè mi è sparito Non so se è per bug Ho per lag Ma totalmente mi è sparito Da sotto gli occhi Vabbè Ok Ok Mi tocca Vabbè 35 secondi E uno l'hai mandato basso Perché comunque Se lo hai pestato L'hai mandato già basso di vita Eh se mi ha preso i colpi Però penso di sì Dai non lo so Io per ora non ti ho mai visto Mi dispiace Ma sei nel labirinto Nei cespuglie Eh boh È un indizio che mi chiedi Troppo importante Mi fai cercare i cespuglie Ti posso dire Che se trovi me Trovi quattro di noi Quattro di cinque Sto guardando i cespuglie Ok va bene Sosteria Sosteria Un minuto ho passato Zero kill per Fere Dai ho perduto il po' Guarda tu ti cespugli Di sta zona Ma dimmi te Beh dovevamo renderlo Un po' più nascondinoso Fere E tempo fa Quando lo facevamo noi C'erano solo il labirinto Alla fine era una chiaparello Invece così C'è un po' più di Lato nascondino No dovevo guardarli tutti Dove è Fere Poi non la vedo Non la vedo Non è lontana Sta pure per partire Chi è sto qua Non era con te C'era uno dei cespugli Quindi io pensavo Di trovare altri quattro Dai 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 Non scappare così lontano Mi hai fatto mia paura Non scappare così lontano Non puoi scappare Troppo lontano dal labirinto Dove sei finito Perché stai girando in tondo Fere ma che problemi Stai avendo Che il personaggio di GTS È sempre bello Lo so Lo so Anche io stavo soffrendo Una kill per Fere Stavo anche infierendo sul canale Contate i colpi raga Una Uno su cinque Un minuto e cinquanta però Stef a un minuto e cinquanta Era due kill Eh perché non vi trovo Perché siamo compatti Siamo una squadra unica Cioè io penso di averlo girato tutto Forse l'ultima parte Non l'ho girata così tanto bene Ma questo è un vicolo cieco Vediamo un pochettino Io faccio pena Cercare Mamma Io non so quanto stanno ridendo i consolini Perché io me la sto godendo Di brutta Eh certo Si sono messi tutti con te Perché tu sei bravo A cerchere A nascondersi Eh lo stiamo dimostrando Ti trovo Due minuti e venti Cioè dove sei? Dai dove sei? Sei in qualche posto strano Sì Assolutamente Quindi non sei nel labirinto Beh non posso neanche essere Oltre l'aiuole Sì ma non sei nel labirinto Perché Cavolo penso di averlo girato tutto Cioè quattro persone si vedono Quello certo Non è che possiamo In realtà siamo in tre ormai Uno ci ha abbandonato Ok Scappato Esatto Credo che gli è venuta paura Perché una volta ci sei passata vicino Ed è scappato via Capito? E quindi Ah ci sono pure passata vicino Sì 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 Secondo me allora Quando ne ho trovato uno Che tu sei rimasto zitto E avevi paura che ti avessi trovato Una bella teoria Però non riesco a uscire Per ritornare in quella zona Quindi La teoria è buona Però Chissà se è così Nel mentre sono passati Tre minuti E quindici secondi Mi hai rotto le scatole Dove sei? Hai una kill Ci sono quattro persone nascoste E tre sono con me No non parlo Non parlo Non ci parlo con te Perché mi fai le cose apposta Per farmi fare figuracce Allora secondo me Sì Questa zona qui Tu sei rimasto zitto zitto Quindi probabilmente siete qua vicino Siete in questi cespugli pure voi E lo sapevo che sei un infame Uno l'ho preso Qualcun altro lo sto prendendo Perché sento rumori di uccisione Lo sapevo Quindi due kill per fare Ti ha tradito il fatto che tu prima eri zitto zitto Non è vero Te l'ho voluto far capire Perché stavi andando troppo male Ma stai zitto Cavolo quanto corre questa Te ho perso Sto seguendo un altro Ma penso che perderò Non ti ho più visto Perché sono scappato Totalmente tanto Ok fuori un altro Fuori un altro E tre kill su cinque E ti mancano cinquanta secondi Stai recuperando eh Vabbè perché eravamo tutti in questo posto Non starei andato lì Vabbè era difficile poi da ammazzare Questo l'ho già fatto fuori prima Quello non c'entra nulla E pente quando stavi inseguendo quel tipo Ce l'ho anche io Eh lo so ma Ho punto uno e lo perdo No ma quando hai fatto non ti vedo più Io ero in un angolino e non mi hai visto Capisci? Ma perché parte musica strana? Eh sono i venti che partono da soli nella lobby Che cavolo succede Allora venti secondi e te ne mancano due Venti secondi e te ne mancano due Che cavolo Allora Allora Dai Steph esci fuori Esci fuori Non esco fuori Affrontami Non ti affronto Per cavolo sei proprio vestito di giallo Dovresti vederti Ti ho dato anche un indizio ma non l'hai vista Che indizio? Stavo sparando flare in cielo ma non li vedi Cioè ma guardo il cielo secondo te Ovvio che mi metto a guardare giù Cinque minuti passati Mi dispiace Vabbè però l'ho recuperato Non è andata così male 3 di 5 4 di 5 Mi hai fatto perdere un sacco di minuti A guardare dentro il labirinto Ovvio che se tu mi dici Nascondiamo uscita il labirinto Io guardo dentro il labirinto Non guardo E c'è spuglia Torna il labirinto Zitto No non devi parlare Non ti do la possibilità di spiegarti Red il nascondino È semplice Muto Muto Red il nascondino In ogni caso Ci fermiamo così È stato davvero divertente Fateci sapere se volete rivedere GTA Se lo volete rivedere appunto In compagnia dei consolini Proponeteci delle cose appunto da fare E se vi state chiedendo Come partecipare Raga Probabilmente Discord Nat Organizza lui Cerca gente filata Tranquilla Perché ovviamente Servono persone tranquille Per questo genere di eventi Quindi nel caso Provate a sentirlo Ovviamente serve GTA per pc E i vari giochi per pc Quindi vedete un pochettino voi Qua sotto compriendo altri video Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao